No al taglio alle retribuzioni e questo l'appello lanciato questa mattina dai dirigenti scolastici durante l'assemblea sindacale organizzata dalla CISL all'interno dell'Aula Magna dell'Istituto Gemellaro di Catania. Obiettivo dell'incontro è quello di evitare che il governo apporti la decurtazione al fondo che alimenta una parte delle retribuzioni. Ecco perché il prossimo 14 febbraio è stato indetto da CISL, Will Scuola e da SNAS Comstal lo sciopero nazionale da parte di tutti i presidi d'Italia. Decurtare il fondo nazionale, il cosiddetto fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato che in base ad una interpretazione che noi riteniamo folle dell'ufficio centrale del bilancio che è un'articolazione del Ministero delle Finanze, contesta i calcoli che ha fatto il nostro Ministero, il MIUR i cui effetti si trasformano in una perdita salariale computabile nell'ordine dai 2.500 ai 3.500 euro l'ordine anno, cosa assolutamente inaccettabile. Una protesta che rappresenta quasi una scelta obbligata, come ci spiega il segretario generale della CISL Scuola Catania Giuseppe Denaro, specie di fronte a sempre maggiore impegno assunto da chi ha il compito di dirigere una scuola e che oggi spesso si sente abbandonato. Oggi con la normativa esistente il Preside, il Capo d'Istituto è purtroppo lasciato solo. Sono aumentate di molto le competenze, sono aumentate di molto le responsabilità e nel contempo non abbiamo uno status dirigenziale realmente compiuto, perché è sulla carta, e quindi con difficoltà quotidiane che sono notevoli. A Catania i dirigenti scolastici sono circa 199 su un territorio che però necessita di una presenza sempre più forte, alla luce dei dati non molto rassicuranti della dispersione scolastica che si aggira attorno al 30% di ragazzi che non portano a compimento il ciclo di studi.